Un saluto vitaminico amici telespettatori e benvenuti per la gara 4 The Collision per The Last Marble Standing Ma ben sapete siamo l'unico canale italiano che vi fa la telecronaca delle miglie della Jelly's Marble Runs Che sta andando, sta spopolando su Youtube, io vi invito a iscrivervi al loro canale E oggi vi voglio spiegare come sarà lo sport e la disciplina che andremo a vedere un pelo prima Ma perché dopo non avremo tempo? È un quadrato dove due squadre si affronteranno in un torneo Con quarti, semifinale e poi finale con un unico vincitore che si sarà di prendere più punti possibili E dovranno collidere all'interno di questo quadrato in non uscire dai bordi Poi vedremo ostacoli, suspense, insomma ci sarà davvero tante emozioni Io inoltre vi ricordo che inizierà la Marble League 2020 ufficiale alla conclusione di questo evento Perché stiamo aspettando la costruzione dello stadio nuovo e noi la seguiremo Io vi invito a restare con noi, a iscrivervi e siamo pronti per gara 4, la collisione, the collision Bentornati al Craven Dodromo, io sono Zergantis e oggi siamo di fronte a una disciplina molto particolare Intanto vediamo la classifica Grails of Glory, Timpurity, Terry Dash e semi-skimush 14, 13 e 10 punti a pari merito La disciplina di oggi ve l'ho spiegata prima nel pre-evento Avremo due squadre che dovranno collidere al centro di questo quadrato Cercando di non uscire dalle parti protette dal domino Ma se andranno a pattare troppo forti sugli scivoli blu o verdi Innescheranno le biglie sferiche di acciaio Che molto più pesanti e potenti potrebbero mandare in fumo i piani di una delle due squadre Mandandole fuori Vediamo il Timpurity contro il Mickey Madness sinistra e a destra E vanno collidere al centro E abbiamo due biglie del Timpurity già fuori Mickey Madness sembra essere stato più solido Infatti vediamo dal replay subito sulla sinistra La caduta di una, due biglie del Timpurity più una nella parte superiore Solo una biglia caduta da parte del Mickey Madness E infatti 4 a 2 per il Mickey Madness nel game 1, nella gara 1 E nonostante il pubblico l'acto l'acto man non sia molto contento Semi-skimbers e Timpurity E i semi-skimbers Uuuuh e si è innescata doppia trappola E sembrerebbe un pareggio con una biglia a testa fuori nella parte inferiore del quadrato di gara Vediamo al rallenti Subito in alto una biglia che cade E in basso, no, sembrerebbero due le biglie fuori per il Timpurity Ora voglio rivedere, voglio rivedere la grafica E infatti, e infatti Timpurity ne ha perse due Delusione per il Timpurity che si poteva giocare le prime posizioni Mickey Madness contro i semi-skimbers Mickey Madness che è andato benissimo nella prima gara E adesso malissimo, malissimo anche con l'inesco della gara Skin-skimbers 3 a 1 ma è abbastanza evidente qua Vediamo dal replay che cosa è successo Una bella formazione dei Mickey Madness Ma che vengono sbattuti fuori nella parte inferiore E grave sfortuna sul lato destro del quadrato Mickey Madness cade fuori dal buco che la biglia degli semi-skimbers aveva creato Quindi, prima posizione semi-skimbers Seconda Mickey Madness, Timpurity che non ha portato a casa neanche una vittoria Ultima nel suo girone Vediamo il pubblico emozionatissimo per questa prima gara Partiamo con il gruppo B Derry Dash contro i The Fresher The Fresher che sono i favoriti per questa gara E abbiamo la perdita Uh, si innescano tantissime trappole Sembrerebbe invece che i Fresher abbiano perso L'unica biglia a essere uscita sia quella dei Fresher Oh, però attenzione, attenzione La Asmen potrebbe uscire E no, non c'è abbastanza potenza Vediamo l'impatto Subito Abbiamo visto che quella parte di Quella parte di gara, di parete sulla destra È incline veramente alla fuoriuscita Spesso i bonnetieri, le biglie abbiamo visto anche nel gruppo A Sono uscite dal lato destro In quel singolo tassello di Dominion Adesso vediamo qua che non c'era abbastanza forza Da parte della grande biglia metallica Hanno rischiato tantissimo Hanno rischiato veramente tantissimo E Derry Dash 4 a 4 Hanno perso la biglia anche loro, non l'avevo vista Di 4 a 4, pareggio I Derry Dash comunque portano a casa un pareggio importante Glades of Glory contro i Derry Dash Blu scuro contro azzurro Sarà difficile distinguerle E arriva all'impatto E sembrerebbe che l'unica biglia fuori sia quella dei Glades of Glory Ma attenzione È stato veramente un rischio Vediamo subito qual è Sì, 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 sì Glades of Glory è l'unica biglia che è andata fuori Ripeto, lato destro in basso a destra Quindi sud S è davvero pericoloso per le biglie 5 a 3 2 fuori Non ho visto la seconda Anche io pensavo fosse solo una Tanto la grafica ci ricorda che Potete trovare all'interno della gara La biglia fatta a quadrifoglio Se l'ha trovata mettetemelo nei commenti Ecco i The Fresher contro i Glades of Glory The Fresher graziati Non escono per veramente un soffio Nell'angolo in basso a sinistra E mantengono 1, 2, 3, 4, 5 sfere Tutte all'interno Mentre i Glades of Glory Con una doppia carabola Error interno dei compagni di squadra Escono nella parte nord Grave incompressione da parte Dei compagni di squadra Che cercavano di andare Con la loro tatticate stuggine E invece Se è stato un errore Sono andati fuori loro Invece degli avversari Infatti 5 a 4 The Fresher contro i Glades of Glory Glades of Glory Ormai Verso la vittoria The Fresher è una vittoria E The Fresher è una vittoria sola Glades of Glory Neanche un punto Ora andiamo alle Semifinali Quindi abbiamo due grandi Eliminati per ora E andiamo alle semifinali Con i semi skimmers Con i The Fresher Ecco arriva la collisione E due subito fuori Da parte di The Fresher Ma le trappole Le trappole nella mappa Hanno Hanno andato in vantaggi The Fresher 3 a 2 Guardate bene All'inizio subito escono Due biglie dei The Fresher Seguiti da una Degli skimmers Ma la grande sfera metallica Manda fuori Una E due biglie Sul lato inferiore E lato destro Peccato per i parzialmente Scremati per i semi skimmers Che avevano interpretato Benissimo la gara Ma d'altronde La grande sfera metallica Serve a riequilibrare Con il caso La forza dei due team Semifinali Derry Dash Contro i Milky Madness Derry Dash fuori Due biglie già fuori Mentre i Milky Madness Sono più cauti Vanno più leggeri E non escono Da i bordi Proviamo subito Sulla sinistra C'è stato Sulla destra E sulla sinistra C'è stato proprio Uno degli atleti Del Milky Madness Che ha dato veramente Una carambola Ma andando in In obliquo Due sfere Facendo veramente Filotto 4-3 Per i Milky Madness Che battono I Derry Dash E siamo pronti Per la finale The Fresher E Milky Dasher Milky Madness Scusate Ah no Abbiamo lo scontro Per il terzo posto Derry Dash Contro i semi skimmers Che tensione Negli spalti Skimmers Uuuuh Skimmers Skimmers Che vanno fuori Da un gran colpo Dei Derry Dash Che riescono a mandare Nella bisettrice Entrambe le sfere Giù Per la tangente Guardate Uno e due Incredibile Anche errore Da parte Del gruppo Degli semi skimmer Che poteva giocarsi Veramente Il terzo posto E guadagnare Dei punti Essendo anche A pari merito E invece Non riescono a Concretizzare Una ottima Ottima Opportunità Derry Dash Al terzo posto Congratulazioni A Derry Dash Che infatti Sono molto contenti Got Milk Derry Derry Adesso siamo pronti Per la finale C'è tensione Per l'ultima finale La regia ci fa Una grandissima Ripresa Delle due sfere Metalliche Che potrebbero Dare Veramente La vittoria O la sconfitta A uno dei due team The Fresher contro Milky Madness Partono E via E i The Fresher Danno una Grafica O 1-1 Sembrerebbe 1-1 O forse 2-1 Non riesco Ho bisogno Della grafica È stato troppo Veloce Andiamo subito Alla collisione Un Fresher Che va fuori In alto Un Milky Madness Che va fuori In alto A destra E Un altro Milky Madness Che va fuori E viene salvato Il The Fresher No va fuori È un pareggio 3-3 In questi casi Le tre biglie rimaste Nel entrambi lati Collideranno al centro Ecco che arriva la collisione Fresher fuori Due Fresher fuori Ma con l'arrivo Delle biglie sferiche Mandano fuori L'ultimo Milky Madness È di nuovo un pareggio 1-1 È incredibile 1-1 È veramente Una finale A cardiopalmo All'ultimo sangue I The Fresher Non vogliono assolutamente Mollare un centimetro E adesso penso che Si avvierà Guardiamo un replay Subito fuori Un Fresher Subito fuori Un Milky Un altro Fresher Che va fuori Nell'angolo In alto a sinistra È qua La sfera metallica Toglie la vittoria Ai Milky Madness Miracolati The Fresher Miracolati Non è mai successo Questa cosa Questo pareggio Una contro uno Signori Highlander Solo uno Sopravviverà Collidono E fuori Milky Madness E si salva Incredibile I The Fresher In bilico In bilico Guardate Si sbocciano Appena Appena I Milky Madness Vanno giù Mentre il domino Lo spigolo del domino Salva i Fresher Dalla Dalla sconfitta Incredibile Incredibile Vincono I The Fresher Con un'azione Di equilibrismo Incredibile Sui Milky Madness Che comunque Si fanno veramente Onore In questo Quarto gioco Sei punti The Fresher Cinque punti Milky Madness Tre punti Derry Dash E i The Fresher Guadagnano punti Adesso in classifica Vediamo la celebrazione Col duco e la duchessa Che celebrano I vincitori È stata incredibile Questa gara Sono emozionante Fortunatissimo The Fresher A 6 punti Milky Madness 5 punti Derry Dash A 4 punti Ma voglio vedere La classifica generale 16 punti Glace of Glory Seguiti da T-Purity Fresher E Derry Dash Tutti a 14 punti Seguiti Le semi skimmers E Milky Madness A 13 Incredibile Incredibile È stata veramente Una gara Al cardiopalma Sono suttatissimo È stato veramente Un'emozione La fine I Fresher Che riescono a tenersi Con la forza Del pensiero Invidico È stata veramente Una gara Emozionante Io ragazzi Mi invito A iscrivervi al mio canale YouTube A seguirci anche Su Instagram E su Twitter Siamo là Venerdì, mercoledì E venerdì alle 9 E a seguire Tutto il meglio Dell'eSport E delle biglie Qui su Vitamina Game Io sono Zergantis E vi auguro Una buona serata Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti